torno nella stessa strada quella del test precedente in discesa 12 chilometri in discesa dove i freni li metti veramente alla frusta stesse gomme del test precedente stessa strada, stesso assetto, stessa macchina ma i freni più grandi, dischi più grandi, pinze più grandi e pastiglie per uso track la macchina è... oggi test drive della Mini, proviamo l'impianto maggiorato da 330 mm della EBC su un tratto di strada che sta al di là di questo tunnel, molto ripido in alcuni tratti, metterò alla corda a questi freni e vediamo come si comportano vale il rack? non vale il rack finalmente, bentornati amici, come state? io ho emozionato perché ho aspettato tanto questo momento e non vedevo l'ora di provare l'impianto maggiorato della EBC prima di iniziare il video vi dico che questa macchina monta un assetto B16, B14 della Bilstein tarato rally, si fa per dire copia bene se vai in pista e sali su un cordolo la macchina ammortizza e su una strada del genere misto stretto in alcuni tratti misto veloce con tante buche appallamenti, frenate, salite e discese di base la macchina si dovrebbe comportare bene e lo fa quattro pneumatici Michelin Pilot Super Sport che adoro, mi piacciono molto e questo impianto maggiorato per Track Use ma ci vai anche in città della EBC da 330 mm lì davanti è un EBC invece con le pastiglie Yellowstaff al posteriore delle dimensioni originali ma sappiamo che dietro la frenata conta meno che davanti torno sulla stessa identica strada nella quale avevo avuto problemi tempo fa con l'impianto frenante di dimensioni standard, originali una pinza monopompante questo è un tratto di strada di circa 12-14 km in discesa dove la stressi veramente tantissimo la pompa del freno è rimasta originale infatti c'è da capire se ce la fa e sono davvero curioso a primo impatto la prima sensazione è quella che frena molto di più ma voglio capire se in fondo a questi 14 km di inferno continuerà a frenare come adesso madonna come va bellissima la risposta del pedale anche se la corsa è lunghina rispetto a come ti aspetteresti da un impianto che è pensato per la pista non è on off hai un po' di corsa del pedale prima che cominci a mordere il che è fantastico perché mi dà una bella fiducia lo conosco, è così la pompa dei freni è originale e molto probabilmente è sottodimensionata per questo tipo di impianto o per un uso solamente da pista ma fino a qua è un'altra cosa rispetto a prima un'altra cosa vediamo se posso disattivare i controlli di trazione sì e siamo in discesa ok ok mi dai fiducia ma non ti conosco ancora bello ma quanto frena mamma se frena sì che frena ragazzo se frena che bella oh bionda ragazza quanto sei bella bucchè questo è il tratto quello da disgraziati da rally dove sento che l'assetto Pistein fa il suo dovere adesso è perfetta chirurgica iscriviti siamo quasi 100.000 mancano 4 gatti vai a leggere quanti siamo chissà che proprio tu sarai il centomillesimo tra l'assetto Pistein gli angoli di Luigi e questo impianto maggiorato da 330 mm della EBC per uso pista è irriconoscibile era già bella prima adesso è fantastica Ciardullo mi ha rifatto gli angoli alla Mini e io non lo so ma Ciardullo lo adoro perché gira che che è una meraviglia inserisce con una rapidità tale che ho un gusto nel guidarla pari a da 1 a 10 10,5 questo volante a calice me la fa guidare ancora meglio la sento di più e senti come frena posso staccare molto 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 rispetto ai vecchi freni e la corsa del pedale è lì in questo tratto avevo praticamente finito la corsa è un diavolo incazzato nero ma vabbè raga i freni sono tutto i freni sono tutto cambia completamente l'approccio di guida il DNA della macchina sfrutti al massimo un motore che non è potentissimo questo è un 1.6 che eroga circa 200 cavalli ma la posso portare un po' al limite non in questo test drive perché al limite si va in pista non per strada lo sappiamo l'abbiamo detto mille volte ma comunque sto guidando alle grotto porca traguia differenzione autobloccante sento meno la necessità oggi rispetto all'altra volta ma comunque l'ho ammesso ne abbiamo già parlato forse con un discorso pista vado a mettere il diff e lei diventa un track tool madre il tratto di strada in discesa è finito e ti dico che sono non soddisfatto di questo impianto sono stra stra soddisfatto non avevo dubbi però sai poi guidarla ti dà la conferma di cui abbiamo bisogno era il giusto grade da fare su questa macchinina quindi raga manca solo il diff sono contento grazie Joe un'altra cambiata completamente ringrazio Joken Trettol la NTP la Black Mechanics e la EBC per l'assetto Beelstein e per i freni lascio qui sotto in descrizione i link nel caso volessi acquistare tutto ti assicuro che vanno da Dio no jokes no excuses bomba mini Cooper S R53 minima spesa massima resa minima spesa no effettivamente no questa auto è stata un'odissea ma adesso siamo arrivati al punto in cui o esplode oppure me la godo un po' e la macchina è bella come piace a me e la macchina Grazie a tutti Grazie a tutti